È andata abbastanza, abbiamo fatto almeno quattro quesiti, il problema non sono riuscito, però era fattibile comunque secondo me. Quindi ve lo aspettavate così, più facile o più difficile? Sinceramente più difficile. Più difficile? Sì. Però sono andato molto male. Siete riusciti a copiare? Copiare si riusciva a dirsi. Non si riusciva? A parlare. Ah, ho capito. E in classe c'era accettazione, tensione, più di ieri immagino? Più di ieri sì sì sì, allora sì. Ho capito, va bene, in bocca al lupo ragazzi. Sì, grazie. Insomma, sì, è andata, spero bene, non si dice mai che è andata bene, perché porta sfortuna. No, un po' più difficile, non era tanto più complesso. C'era agitazione in classe? Sì, molta, molta. Molta? Più di ieri? Alcuni un po' di più, altri di meno, alcuni ieri avevano già scaricato, mi hanno detto, quindi oggi un po' di meno. Però oggi era molto più difficile, quindi oggi era molto più sentita rispetto a ieri. Il tema, bene o male, è sempre quello. Questa seconda prova com'è andata? Abbastanza bene. Pensavi più facile, più difficile? Pensavi più difficile. Più difficile. Perché c'erano un po' di domande di logica, cioè ci ha aiutato un po' anche magari a sapere bene il programma. Alcune domande ci arrivavi più con la testa che senza aver studiato in dettaglio. Sei stato il primo a uscire della tua classe? La mia classe sì. Sì, solo com'è andata. Com'è andata? È andata! Cioè, l'esercizio era abbastanza, diciamo, fattibile. Non ci arrivavo subito a fare ciò che andavamo a fare. Abbiamo fatto il tema di fisica, un po' di aspetto ponton, l'alternativa era il circuito elettrico, ma non era complesso. Quindi eravate tranquilli? Si sapeva, sì. Fattibilissimo. Chi ha fatto il circuito e chi ha fatto... Tutti fisica moderna. 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 Eh sì. Ma perché l'alternativa era una stronzata, un circuito di fisica classica.